Sono passati tre mesi dall'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi 2014 al primo di Melbourne Australia 2015, tre mesi intensi di lavoro sia per i team Princip che hanno fatto svariate riunioni per cercare di rendere più spettacolare questa Formula 1, devo dire con scarsi risultati, mentre i team si sono dati battaglia già nelle pre-prove di Spagna nel mese di febbraio e abbiamo visto dei grossi passi avanti per alcune squadre, quindi la curiosità oggi vola a Melbourne, un anno fa si parlava di vetture che non avrebbero tagliato il traguardo, di un Gran Premio che poteva abortire prima ancora di partire, oggi andiamo con tante incognite perché abbiamo visto una Mercedes fortissima in questi test, abbiamo visto tante squadre che hanno migliorato le loro prestazioni rispetto alla scorsa stagione, ovviamente questi test non ci dicono sempre la verità, credo che avremo davanti a noi una Mercedes imbattibile, quindi una lotta tra Hamilton e Rosberg per il titolo mondiale, poi c'è una serie di 3-4 team e speriamo che di questi team faccia parte anche la Ferrari, che cercheranno di portare via il terzo posto del podio e giocarsi il secondo e terzo posto nel mondiale costruttori. Una Formula 1 che parte con 10 squadre perché è stata recuperata la Manor e Marussia, ma che però perde i due volte campioni del mondo, Fernando Rosso che dopo l'incidente con tante incognite, con tante incertezze l'ha colpito nelle seconde prove di Barcellona, un'incertezza che speriamo la FIA che rischia per i team, per i piloti, per i tanti appassionati della Formula 1 che chiedono di avere spiegazioni certe. Tutti davanti alla televisione domenica prossima perché sarà un grande Gran Premio, buon divertimento!